In questa video lezione vedremo quali sono le regole per raccordare l'iter procedurale previsto dalle disposizioni in materia di procedimento unico e le disposizioni previste dalle singole normative settoriali e vedremo anche quali eccezioni sono espressamente previste dalle direttive regionali su APE. Il principio generale stabilito dalla legge regionale 24 del 2016 prevede che per i procedimenti che rientrano nel campo di competenza del suo APE non trovano applicazione le disposizioni di natura procedurale contenuti nelle discipline settoriali comunque difformi rispetto alla disciplina del procedimento unico con particolare riferimento alle tempistiche istruttorie, alle disposizioni che prevedono la sequenzialità delle verifiche fra più uffici anche di diverse pubbliche amministrazioni. Questo significa che per tutti i procedimenti unici su APE le disposizioni procedurali sono quelle proprie della legge regionale 24 stessa ovvero le disposizioni sul procedimento in autocertificazione e sul procedimento in conferenza di servizi che abbiamo visto nelle apposite video lezioni. Tutti i soggetti coinvolti operano simultaneamente le verifiche di propria competenza secondo le modalità e i termini previsti dalla norma raccordando e portando a sintesi le risultanze istruttorie in serie di conferenza di servizi nei casi in cui la stessa è prevista. Le eccezioni a questo principio generale che prevedono quindi l'inapplicabilità delle disposizioni procedurali delle discipline settoriali sono puntualmente indicate nell'articolo 18 delle direttive regionali su APE. Vediamo adesso di esaminare quelle più importanti. L'eccezione più frequente è certamente quella relativa all'autorizzazione paesaggistica. In particolare in caso di autorizzazione paesaggistica ordinaria di quell'articolo 146 del codice urbani, quindi non parliamo di autorizzazione paesaggistica semplificata ma solo di quella ordinaria, i termini della conferenza di servizi assincrona sono fissati in 55 giorni consecutivi invece che 30 che è il termine ordinario. L'ufficio regionale o delegato competente in materia di tutela del paesaggio trasmette la relazione istruttoria entro 40 giorni consecutivi dalla ricezione della documentazione da parte del SUAPE. Questo perché la stessa norma settoriale prevede una sequenza in cui prima l'ufficio competente redige la relazione istruttoria, quindi la soprintendenza effettua le proprie verifiche sulla base della stessa relazione istruttoria. Il termine quindi per redigere questa relazione è di 40 giorni, fermo restando il fatto che la conferenza di servizi complessivamente ha una durata indistinta di 55 giorni. Quando questa relazione non dovesse essere redatta e trasmessa alla soprintendenza nei termini, quindi nei 40 giorni, prima della conclusione della fase asincrona prima dei 55 giorni, la soprintendenza può richiedere al SUAPE di procedere alla convocazione della conferenza di servizi in modalità sincrona, fissando la seduta di regola al trentesimo giorno successivo alla scadenza della fase asincrona. Come vedete questa è una ulteriore fattispecie che la norma non prevede di convocazione della seduta in modalità sincrona dopo la fase asincrona ed è legata al fatto che la soprintendenza lo richieda espressamente perché la relazione non è stata redatta nei termini da parte dell'ufficio tutela del paesaggio. Per tutto quanto non espressamente precisato e per l'autorizzazione paesaggistica semplificata si applicano le regole normali della conferenza di servizi in ambito SUAPE previste dagli articoli 11 e 12 delle direttive regionali. Restando sempre nell'ambito di tutela del codice urbani del decreto legislativo 42 del 2004, per tutte le autorizzazioni per il vincolo archeologico e monumentale le direttive prevedono che in caso di interventi incidenti sul sottosuolo in aree soggette a vincolo archeologico o comunque di interventi direttamente connessi con il bene vincolato, l'approvazione della soprintendenza, quindi l'autorizzazione di quell'articolo 21 del codice urbani deve essere acquisita al di fuori del procedimento unico SUAPE, secondo le modalità di raccordo di cui è l'articolo 17, quindi può essere acquisita anche parallelamente al procedimento unico SUAPE ma comunque esternamente allo stesso. Il SUAPE invia comunque la pratica alla soprintendenza competente al fine di verificare che il progetto che viene trasmesso al SUAPE sia effettivamente conforme e corrisponda con quello che la soprintendenza ha autorizzato in separata sede. In tutti gli altri casi, quindi laddove il decreto di vincolo preveda una fascia, una zona di vincolo indiretto, quindi una zona dove sussistono particolari disposizioni di tutela ma che non è direttamente sul bene vincolato, l'autorizzazione si acquisisce dentro il procedimento SUAPE, si applicano i termini di svolgimento della conferenza di servizi di quegli articoli 14 bis comma 2 e 14 ter comma 2 della legge 241 del 90, quindi con una conferenza di servizi che dura sostanzialmente 90 giorni e con un termine complessivo di conclusione del procedimento di 120 giorni. Per quanto riguarda i casi in cui i regolamenti comunitari in materia igienico-sanitaria prevedono la necessità di un riconoscimento espresso, come nel caso di trasformazioni di prodotti alimentari soprattutto nel settore dell'alimentazione animale ma anche al di fuori di questo 852-853 del 2004, così come riconoscimenti comunitari in materia di mangimi di trattamento dei sottoprodotti di origine animale e simili, il SUAPE svolge una conferenza di servizi normale. Tuttavia al termine della conferenza il SUAPE ne comunica l'esito della fase asincrona o trasmette il verbale della seduta in modalità asincrona all'assessorato regionale della sanità affinché questo provveda entro i successivi dieci giorni alla concessione del riconoscimento comunitario e all'aggiornamento degli elenchi, sempre sui sistemi informatici europei, degli stabilimenti riconosciuti. L'assessorato quindi trasmette la determinazione di riconoscimento al SUAPE il quale emette il provvedimento unico finale allegando la determinazione regionale di riconoscimento. Per quanto riguarda le procedure ad evidenza pubblica le direttive precisano che la fase ad evidenza pubblica e quindi la selezione tra più candidati precede l'avvio del procedimento unico SUAPE e viene svolta esternamente rispetto a tutte le regole sul procedimento unico. Gli assegnatari provvedono a seguito della comunicazione di aggiudicazione laddove quest'ultima non sia di per sé sufficiente a consentire l'effettuazione dell'intervento o l'avvio dell'attività a inoltrare la dichiarazione autocertificativa, quindi la pratica al SUAPE, secondo le modalità ordinarie previste dalla legge. Ancora per quanto riguarda le grandi strutture di vendita, le direttive precisano che il procedimento si articola in una doppia conferenza di servizi. La prima conferenza di servizi è a natura istruttoria e si svolge secondo le comuni regole del procedimento SUAPE, terminata la quale viene convocata una seconda conferenza di servizi in modalità sincrona secondo le speciali disposizioni contenute nella legge regionale 5 del 2006. Il rilascio del provvedimento unico autorizzatorio avviene ad esito di questa seconda conferenza di servizi. Per quanto riguarda l'acquisizione di pareri di organi collegiali, le direttive distinguono tra gli organi collegiali perfetti e gli organi collegiali imperfetti. Sono perfetti quegli organi collegiali come ad esempio le commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che per esprimersi devono avere la totalità dei membri presenti. Gli organi collegiali imperfetti sono quelli invece come ad esempio il Consiglio Comunale, la Giunta, che si esprimono a maggioranza anche se non intervengono tutti i membri componenti. Dove è prevista l'acquisizione di pareri di organismi collegiali imperfetti? Gli stessi si esprimono nei termini previsti per la conferenza sincrona, mentre in caso di conferenza sincrona partecipano alla stessa per il tramite del rappresentante unico previsto dalla legge 241 del 1990. L'unica cosa che precisano le direttive è che in caso di acquisizione di parere di organi collegiali di governo delle pubbliche amministrazioni come ad esempio appunto il Consiglio o la Giunta Comunale, il SUAPE deve comunque acquisire la deliberazione dell'organo collegiale prima di emettere il provvedimento unico conclusivo del procedimento. Non si applica, cioè il tacito assenso del parere dell'organo collegiale nell'ambito della conferenza di servizi. Per quanto riguarda invece gli organi collegiali perfetti, come abbiamo visto nell'esempio la Commissione di Vigilanza che è sicuramente il collegio perfetto che interviene più spesso nei procedimenti SUAPE, questi non prendono parte alla conferenza di servizi ed esprimono autonomamente il proprio parere. Il SUAPE è quindi tenuto ad attendere l'espressione del parere da parte dell'organo collegiale perfetto prima di concludere il procedimento. Per quanto riguarda ancora la concessione per l'utilizzo e l'occupazione di suolo pubblico, le direttive precisano che quando la concessione per l'occupazione di suolo pubblico è l'unico titolo abilitativo necessario per effettuare un determinato intervento, oppure quando si tratta di occupazione temporanea per un periodo inferiore a 15 giorni consecutivi, l'interessato ha facoltà di richiedere la concessione direttamente all'ufficio competente senza passare per il SUAPE, rimanendo comunque l'opzione di richiederla per il tramite del SUAPE. Per quanto riguarda le manomissioni di spazi pubblici, tagli stradali e simili, esse rientrano nel procedimento unico solo se accessorie a un intervento edilizio principale, quindi nel caso ad esempio in cui si debba costruire un immobile ed effettuare dei tagli stradali per allacciare questo stesso immobile ai servizi pubblici, l'autorizzazione per il taglio stradale può essere richiesta nello stesso procedimento unico SUAPE. Quando invece l'oggetto fosse esclusivamente il taglio stradale, come in tutti i casi di tagli per manutenzione appunto di servizi e di sottoservizi, questi vanno richiesti direttamente all'ufficio competente in materia. Per quanto riguarda la proroga dei termini di validità del titolo abilitativo, si segue la normativa settoriale in maniera del tutto analoga a quanto accade con gli accertamenti di conformità, per cui il SUAPE trasmette la richiesta di proroga dei termini di validità del titolo abilitativo all'ufficio competente che autonomamente si esprimerà concedendo o negando la proroga richiesta. Per quanto riguarda le manifestazioni o eventi sportivi o culturali di pubblico spettacolo, le direttive precisano che la competenza del SUAPE si estende solo a quelli connessi ad attività produttive di beni e di servizi. Se per tutto invece le manifestazioni o eventi che non sono connessi con attività produttive non si segue il procedimento unico SUAPE e l'istanza deve essere inoltrata direttamente all'ente competente. Per quanto riguarda invece le strutture sanitarie di media o alta complessità o per l'accreditamento istituzionale delle stesse strutture sanitarie, la conferenza di servizi ordinariamente ha una durata di 90 giorni e il termine complessivo di conclusione del procedimento è fissato in 120 giorni. Per ragioni di sintesi non è possibile in questa sede fare l'elenco completo di tutte le eccezioni che sono previste dall'articolo 18 delle direttive. In questa slide troviamo un elenco di altre eccezioni che sono espressamente citate nell'articolo 18 come il permesso di costruire convenzionato, alcune tipologie di interventi in area perimetrata dal PAI, la deroga alle norme in materia di prevenzione di incendi, i casi di adozione di nuovi strumenti urbanistici o di norme nel corso del procedimento, i trasporti pubblici non di linea, alcune autorizzazioni previste dalle prescrizioni regionali antincendio, produzione e emissione in commercio, importazione e distribuzione di prodotti cosmetici, impianti soggetti a rischio di incidenti rilevanti e il caso delle bonifiche ambientali. Le direttive SUAPE dedicano un intero articolo al raccordo con la disciplina dell'AUA dell'autorizzazione unica ambientale, precisando che la stessa si applica solo alle imprese, questo perché nella normativa regionale Sarda il campo di competenza del SUAPE è esteso anche ai privati nel caso di interventi edilizi, ma l'AUA è un'autorizzazione unica che si applica espressamente alle imprese. Inoltre prevede che l'autorità competente e il SUAPE stesso e non quindi la provincia, in tutti i casi in cui i titoli abilitativi ambientali che confluiscono nell'AUA stessa siano tutti di competenza comunale e quindi sostanzialmente parliamo degli scarichi recapitanti in pubblica fognatura e dell'impatto acustico. Quando c'è anche solo un titolo abilitativo ambientale di competenza della provincia, l'AUA rientra nella competenza della provincia per l'appunto. In caso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del codice dell'ambiente si applicano i termini della legge 241 del 90 e il SUAPE deve attendere il provvedimento in quanto è un provvedimento espresso previsto dalla normativa europea. La conferenza di servizi in questi casi dura quindi 90 giorni. Nei soli casi di cui all'articolo 4,7 del DPR 59 del 2013, ovvero quando il procedimento unico riguarda solo l'AUA e comprende l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269, la conferenza di servizi è indetta e gestita dalla provincia, fermo restando il fatto che il procedimento viene avviato tramite il SUAPE e il SUAPE stesso lo conclude poi con un provvedimento unico conclusivo, ma la conferenza di servizi è appunto gestita dalla provincia. Inoltre le direttive precisano che non rientrano nel campo di applicazione dell'AUA, gli scarichi domestici recapitanti in pubblica fognatura e l'autorizzazione preliminare allo scarico.